fare i conti con l'ambiente 2015 qui a Ravenna una giornata diversa un approccio diverso a problematiche contenuti il tema di energia energie per l'italia del futuro siamo con davidio tabarelli presidente di nomismo energia qual è il vostro impegno la vostra visione il perché della vostra presenza qui quest'oggi ma onorati di essere qui dove si parla di futuri scenari di ingegneria di ambiente e di industria io spero il nostro futuro mi auguro che sia ancora quello del passato più energia perché la ricchezza di un paese dipende anche dal consumo di energia delle persone delle famiglie ma in particolare delle fabbriche qua a Ravenna è un centro industriale importante per la storia del paese in particolare dell'energia intanto è un piacere essere grazie alla videota barelli nomismo energia pari conti con l'ambiente Ravenna